9 aprile buon tutto eccoci insieme con l'almanacco e l'oroscopo ciao da mauro san demetrio di tessalonica due sono i complianni anche oggi abbiamo il pianista compositore giovanni allevi che salutiamo 9 aprile 1969 cantante un cantautore romano 9 aprile 1975 è nato fabrizio moro e la frase del giorno ci ricorda che il denaro è come il letame attenzione non serve a niente se non lo spandi dall'ariete ai pesci l'oroscopo in questo 9 aprile ariete possibilità di conoscere qualcuno che vi incuriosisce molto manifestate i vostri sentimenti avete già messo alla prova la sincerità di chi vi sta a cuore una fortunata coincidenza rimette in sesto le vostre finanze toro momenti di estro e creatività buona forma fisica ed intellettuale avrete grandi successi personali una questione pratica da risolvere senza contare su appoggi esterni siete voi che riuscirete a trovare la via giusta gemelli venere e marte sono vostri alleati farete conquiste grazie al vostro magnetismo personale e rialzo cercate di non razionalizzare troppo un rapporto amoroso potreste fraintendere la reale portata dei vostri sentimenti cancro il vostro intuito vi aiuta a sanare un possibile contrasto in famiglia l'orizzonte si rasserena vivaci gli scambi di idee tra amici si approfondiscono i rapporti affettivi e trovano validi motivi per consolidarsi leone i rapporti umani sono facilitati dalla vostra disponibilità ad aprirvi sarete attraenti e raccoglierete consensi aiuti da un familiare per una questione pratica spazi personali da ampliare una dieta equilibrata servirà alla buona forma in vergine oggi sarete protagonisti il senso della misura vi è di aiuto in una circostanza dove lo stile l'immagine contano più dei mezzi pratici qualche momento di introversione in campo sentimentale servirà a capire meglio e a scegliere la via più giusta bilancia nei rapporti con gli altri venere vi aiuta a mettere a frutto la vostra innata abilità diplomatica il comportamento di un familiare vi provoca irritazione chiedetevi il perché incontri amorosi appaganti a fine serata una gita divertente scorpione qualche problema con un familiare passerà comunque presto in amore ridimensionate qualcuno che avete idealizzato un po troppo favoriti gli incontri nuovi sagittario qualche tentazione pessimistica non va ascoltata marte e venere vi aiutano a ritrovare i giusti equilibri e a rendere efficaci i vostri sforzi per mandare a buon fine i progetti con gli amici romanticismo nei sentimenti capricorno ottima giornata per viaggiare e fare delle nuove conoscenze sole mercurio e giove aprono l'orizzonte e fanno affiorare interessi stimolanti in amore guardate lontano positive trasformazioni sono in atto idealismo e bisogno di autenticità acquario gli amici contano sulla vostra intraprendenza una nuova conquista si affaccia all'orizzonte marte vi dà sprint e slancio vincente cercate di non frenare le emozioni e i sentimenti per un eccesso di ragionamento pesci giornata molto intensa sul piano razionale ed emotivo spendete nel modo giusto l'energia fisica siate voi stessi senza troppe difese tutto verrà da sé e senza fatica dialogo appagante questa sera con chi vi amate